Corner in diretta dal Panteon di Corso Matteotti a Vercelli, corner dopo il 2-2 della Pro allo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, prima frazione di gioco concluso sul 2-0 per i padroni di casa, un primo tempo terribile, anzi oserei dire orribile, sentiremo poi quel che hanno da affermare i nostri amici, opinionisti, colleghi, Paolo Gaglione, Massimo Bignardi, Paolo Gagnone, Nicola Balzaretti, arriverà anche a breve, credo, Massimiliano Muraro, non credo, di aver avuto le visioni, l'ho visto prima, anzi prima abbiamo anche commentato al termine dei primi quartieri, una frazione di tempo piuttosto terribile, però quello che contava era fare punti, vieni, vieni, Max, vieni, caro, s'accordi, s'accordi, ci passi davanti, passi di fianco qua, vieni a rimpolpare le fila di questo parterre de Rouen con la scena del club, Amedeo, Rosa, Amedeo, uno di noi sempre, io mi sposto, si spostano anche loro come un'onda, un'onda bianca, un'onda che ha portato un punto fondamentale alla classifica della Pro, anche in virtù della sconfitta del Brescia a Perugia, nell'altro recupero di serie B, Allora, andiamo subito a vederla, questa classifica, partendo dal fondo, è una classifica che ora presenta tante cose, era fondamentale per la Pro non perdere a Cesena, così è andata, Facciamo una classifica a ritroso con la Ternana a 25 punti, l'Ascoli a 26, la Pro a 28, che però è a una incollatura dall'entella di Caglione, a 29, a 31 il Novara, a 32 il Cesena, pensate cosa sarebbe accaduto se la Pro avesse perso a Cesena, a 33 il Brescia, a 34 Salernitana ed Avellino, a 36 poi il Pescara, che come sapete ha esonerato Zeman, io però credo che il Pescara non dovrebbe rientrare nei giochi per la salvezza, quindi da Brescia in giù sono tutte dentro, teniamo conto che la zona play-out dista un punto e nei play-out ci sono a 31 la zona salvezza con il Cesena a 32, 4 punti recuperabilissimi, 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 recuperabilissimi da questa Pro ma dalla Pro del secondo partiamo, partiamo da Paolo Gaglione Il calcio è uno sport bellissimo, è uno sport bellissimo e per me questa è una serata bellissima, perché faccio in ritardo per motivi di lavoro, mi perdo il primo tempo che gli amici mi dicono che hanno fatto male e mi vedo il secondo tempo dove la Pro d'Arcelli ha fatto bene, poi visto che io sono un bambone, un ottimista, dico facciamo il 2 a 1 al 21esimo e il 2 a 2 al 38esimo, al 21esimo segna Castiglia, mi anticipa Berra, va bene così, ma l'importante di questa partita sono due conseguenze importantissime che faccio, una è la quinta componente essenziale del calcio che diceva Arrigo Sacchi che preparazione a Besdarchil, e questo è la svolta della partita perché si fa male al CB e dentro a Berra e si ha il gol del 2 a 2. Due, ti attacco personalmente, tu ami Cosmi, ami questi allenatori esperti? Vittoria, gli amici di presenti lo sanno, io durante il primo tempo ho detto abbiate fede, la partita, in ginocchio sui ceci, Cosmi, qua un altro aperto che alla fine del primo tempo, su un campo impraticabile e non voglio più sentire nessuno che venga in sala stampa a dire del campo della Provercelli perché questo campo stasera è sintetico, faceva schifo, ragiona l'allenatore del Cesene e dice, questa Provercelli è uno dei peggiori attacchi del campionato, stiamo vincendo 2 a 0 su un campo impraticabile, tutti dietro la linea della palla che questi non segnano mai, noi vinciamo 2 a 0, magari ci scappa il 3 in contropiede, e invece la Provercelli gioca un secondo tempo, ho visto solo il secondo tempo, con grande acume tattico, attacca senza sbilanciarsi, è difficile giocare sulle punte perché l'area è affollatissima, si gioca sulle seconde palle, la Stiglia strepitosa, piazza la pera, non riescono più a cambiare il ritmo della gara, perché ormai si erano portati mentalmente a giocare tutti dietro la linea della palla, la Provercelli fa il 2 a 2 e con un attimo in più di determinazione, di fortuna, la Provercelli avrebbe fatto il 3 a 2 e faceva un grandissimo risultato. E io dico un'altra cosa, stasera mi sento Zaratustra, questo è un grandissimo punto, hai letto appena adesso la classifica, sarà un campionato che si risolve nelle ultime 2-3 giornate, al Firouge, questo è un grandissimo punto da classifica Vulsa, perché ricordatevi quello che vi dico, ci saranno molte squadre che arrivano con lo stesso punteggio, e può anche darsi che i play-off si vanno a fare con la classifica Vulsa, la Provercelli ha battuto il play-out, scusate, magari fossero i play-off, la Provercelli ha battuto il Cesena e ha pareggiato col Cesena, quindi nella classifica Vulsa, sono 4 punti questi, la Provercelli pecca un po' col Brescia, ha rimesso le cose in pari con l'Ascoli, contano moltissimo a questo punto gli scontri diretti, e conta moltissimo il morale, perché quando tu becchi la mezza serata storta, e porti a casa un pareggio come questo, è un punto di quelli che pesano tenerlo in mano difficile. Salutami Cosmi. Ma guarda, allora, allora, adesso vediamo di chi è questa cosa, perché non è che io adesso da due mesi a questa parte, fino alla fine del campionato, mi devo scusare, immaginavo che con Serse la Pro si sarebbe saluta, ma invece no, vabbè, adesso questa cosa, adesso voglio dire, io stimo moltissimo Serse Cosmi, ma stimo ancora di più, se possibile, Gianluca Grassadonia, mi ero molto rammaricato per il suo esonero, grande stima anche nei confronti di Azzori, grande stima per tutti, anche nei confronti di Gianluca Azzori, però Grassadonia è tornato ad allenare la Pro, con una rabbia agonistica, con una grinta, e ha ritrovato il suo gruppo, ha trovato i suoi ragazzi, ha avuto la forza, e brava anche la società, ad accontentarlo negli acquisti nel mercato di gennaio, con l'arrivo di Reginaudo, con l'arrivo di Ivan, che vedremo, e abbiate fede, vedremo anche Ivan. E ti dico una cosa, Altobelli non l'ho visto molto, nel pezzo di partita che ho visto io, ripeto, ho visto solo il secondo tempo, entra Da Silva, comprato perché è un palleggiatore, e Da Silva recupera sette palloni da incontrista, e bisogna imparare ad analizzare le partite, sui numeri, lui ha recuperato sette palloni, e poi ha fatto una bellissima cosa, proprio nel finale, quando ci poteva essere, così, l'euforia, buttiamo sta palla in mezzo, l'ha passata in centro, così sono passati di nuovo, i 30-35 secondi, ti porti a casa al tuo punto, importantissimo. Oh, l'occasione, abbiamo al telefono Fabrizio Vazio, noto esperto, super tifoso, innamorato, un giudizio assoluto, caro Fabrizio, sei in linea, sei in diretta, sei in diretta, Alloga, io stavo commentando con gli amici, tu sicuramente ci stai seguendo, che al termine del primo tempo, erano fortemente dubbiosi, sullo schieramento messo in campo da Gazzogno, sulla validità del gioco dei leoni, dei nostri leoni, nel secondo tempo è venuta fuori, la pro contro, forse ha valutato male, quella che era la parte dei nostri giocatori. diciamo che oggi abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma è il sesto risultato utile consecutivo, dopo tre scompitte, che ricordo non sono imputabili all'allenatore esistente attualmente, e certamente la squadra ha delle difficoltà, questo è inevitabile, però mi sento di dire che oggi il pareggio, se non del tutto meritato, lo è abbastanza, perché comunque Cesena è nettamente calato alla fine. Bene, ascolta, allora, un punto pesantissimo, un punto che fa classifica e fa morale, tu chi hai visto sugli scudi nella pro oggi? Allora, francamente, nessuno mi è sembrato così decisivo, mi è sembrato che tutto sommato, il tanto vituperato da qualche... Bravo, 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 allora ti ringraziamo, attenzione, vuole intervenire Paolo Gallione, un attimo. Ciao Fabrizio, una furiosità che mi puoi risolvere solo tu, allo stadio, aspetta che ci rispondo, un attimo, Fabrizio sei lì? Ecco, no, ti saluto. Mi senti? Mi senti? Grazie, grazie, saluto anche l'amico Angelo Geretto, grazie, grazie, un abbraccio forte ad Angelo, ci conosciamo da quarant'anni. Allo stadio te ne vai sempre via cinque minuti prima della fine, quando guardi la partita per televisione vai in bagno gli ultimi cinque minuti o vai sul balcone? No, ogni tanto cambio canale, però molto, molto velocemente, diciamo così. Bravo, bravo Fabrizio, hai ancora altro da aggiungere rispetto a quanto già sagacemente dichiarato? La cosa che voglio aggiungere è che è un punto importante anche perché abbiamo un calendario per via delle varie vicissitudini molto complesso, abbiamo una sequela di trasferte di fila e questa sulla carta era certamente la partita meno impegnativa. Ripeto, secondo me abbiamo strappato un punto anche con un po' di fortuna, ma alla fine sono i punti strappati così quelli che ci fanno salvare. Come hai visto Cesena? Ma il Cesena sulla carta, secondo me, è una squadra che vale più o meno la sua classifica. Diciamo che abbiamo avuto una discreta sfortuna a non incontrarlo quando era in crisi nera e incontrarlo invece dopo una vittoria in trasferta che non solo ha fatto morale, ma gli ha consentito di giocare più tranquilli perché il calcio è una cosa strana nella quale vincere ti fa vincere perché giochi più tranquillo e giochi bene. Certo, la vittoria porta la vittoria. Sì, esatto, esatto. Dopo una vittoria in trasferta non sarebbe stato come trovarli dopo una serie di... Però un punto va bene e allora ce lo portiamo a casa ai guardiani con grande fiducia. Sì, tenuto conto che sulla carta se fai un pari a Cesena a Bari non parti esattamente favorito, però a costo di essere banale la palla rotonda vedremo... Diciamo che a me interessa di più la prima circostanza. Ecco, grazie, ha detto che interessa di più la prima circostanza. Una risposta corretta ad aver innamorato di Pro a una sincope. Allora, il microfono a Massimo Bignardi. Un abbraccio forte, ciao. Allora, intanto è un punto importantissimo, siamo tutti d'accordo, preso con un pizzico di fortuna e questa cosa ci vuole perché in una salvezza anche la fortuna deve essere dalla nostra parte. Integro a quello che ha detto Paolo Gallione su Castori, sull'atteggiamento del Cesena, che lui è arrivato al 46esimo. Già dopo il 2-0 al 22esimo, Castori ha arretrato la squadra, ha fatto aspettare il Cesena davanti alla sua area e forse ha perso l'occasione di fare altri 1-2 gol nel primo tempo quando la Pro era in grande difficoltà. Il Cesena ha veramente smesso di giocare dopo il 2-0. Questo ci ha aiutati a rientrare in partita nel secondo tempo in quei 20 minuti in cui la Pro ha veramente giocato bene, ha fatto vedere il suo solito gioco manovrato che fa in trasferta. Secondo me dobbiamo porci però un quesito se vogliamo pensare al futuro. Come è possibile andare ad affrontare il meaggio decisivo con l'atteggiamento del primo minuto. proviamo a pensare che può essere il motivo di una squadra così molle, così impalpabile nei primi 45 minuti Paolo. È vero, è vero. Una squadra impalpabile nei primi 45 minuti una squadra che aveva lasciato attonito l'amico Paolo Gagnone e adesso? Mi trovo qua a commentare non una partita ma due partite cioè un primo tempo allucinante come tutti i tifosi abbiamo scritto sui social una Provercelli spenta evanescente un secondo tempo che portiamo a casa un pareggio insperato alla fine del primo tempo con un po' di fortuna e tutto quanto che fa morale io mi ricordo ma giocare perché non giocare dall'inizio così e regalare non è la prima volta quest'anno che regaliamo 45 minuti agli avversari non è la prima volta quest'anno e capita la Provercelli nel secondo tempo è scesa in campo diversamente ha portato a casa un pareggio che alla fine può risultare utile contento nel pareggio e contento a metà della prestazione perché non si può regalare tutte le volte un tempo alla squadra avversaria il primo tempo il Cesena senza farlo di trascendentare voi dite mi sembrava per colpa nostra mi sembrava il Barcellona che poi alla fine si è rilevata una squadra come noi e questo è demerito nostro cerchiamo con l'atteggiamento giusto dall'inizio del primo minuto alle partite e secondo me i risultati qualcosa può cambiare in positivo grazie grazie Paolo Massimiliano Massimiliano Muraro anche lui comunque molto fiducioso al termine dei 45 minuti di gioco e tra l'altro ancora una volta dobbiamo abbracciare fortissimi fortissimamente fortissimo i sei innamoratissimi la pro Aldino Manuzzi Orogel che è lo stadio di Cesena confermo quella che è stata almeno l'impressione nostra cioè di un fondo di gioco non eccellente però va bene insomma vuol dire che il nostro non è poi così male Max io direi visto che ha invitato Zaratustra che il suo che il suo discorso della montagna è un po' di grinza e mi sono completamente d'accordo con lui se mi permette vorrei aggiungere che quello che mi è piaciuto della prova Arcelli oggi non è stato sicuramente il primo tempo come non è piaciuto a chiunque però mi è piaciuto il cinismo che ho visto applicato per la prima volta perché effettivamente le poche occasioni da gol sono state capitalizzate al massimo prima con Castiglia e poi con Berra ecco io penso che i campionati e i risultati si raggiungano anche con queste peculiarità se la Pro inizia a essere cinica e inizia come si diceva prima a giocare 90 minuti al posto di giocarne 45 io il futuro lo vedo lo vedo roseo ecco grazie grazie Max però caro Paolo io mi rivolgo al regista le migliaia di spettatori che ci seguono che mi seguono tra l'altro personalmente dicono per esempio 5 secondi fa 10 secondi fa dicevano ma noi non ti stiamo vedendo stiamo vedendo Massimiliano Muraro e tu dove sei non stai facendo la trasmissione bene adesso che sono inquadrato vi posso dire che dovete restare che ridi allora restate con noi perché tra l'altro questo è un corner speciale dal momento che la prova ha recuperato questa sera la e no tra l'altro me lo diceva un'amica un'amica francese vabbè insomma comunque al di là di questo Nicola ride adesso adesso il microfono saluto se sì allora sì sono inquadrato allora stavo dicendo che una serata particolare perché immediatamente dopo corner ci sarà uno speciale in pista quindi dovete dovete anche avere a cuore le sorti dell'amatori hockey in ogni caso l'amatori che è impegnato nella conquista dell'A1 sarà una serata un po' particolare questa quindi restate restate con noi Nicola adesso a te il microfono le sorti dell'amatori hockey tra l'altro è una parola veramente reale perché qua si stanno decidendo le sorti tornando invece alla partita della Provercelli il primo tempo per me è indecente ma indecente al di là della formazione messa in campo dal mister che non so non entusiasmava però è stato indecente l'atteggiamento perché comunque il centrocampo non cerca di andare a prendersi la palla sui piedi dei difensori i difensori sono costretti a creare gioco a costruire il gioco dalla difesa e non mi sembra che abbiamo dei giocatori in difesa con dei piedi così buoni e infatti abbiamo visto dei gran lanci sbagliati il centrocampo che non cerca di andare a recuperare la palla di smarcarsi ma vive a Burico lanci lunghi sull'attacco che anche lì disastroso ma no si 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 no ma la fede la fede ce l'avevo è stato un mago è stato è stato un mago è stato un mago perché comunque con la sostituzione di due difensori alla fine ha segnato il difensore l'ultimo che ha inserito perché era tutto calcolato è una squadra nella quale non importa che segni l'attacco l'importante è che ci sia il gioco che consenta a chiunque di segnare esatto grazie Nicola una disamina corretta lucida puntuale e va a cogliere il che anche lui al termine del primo tempo era pessimista immaginava una grande sconfitta della pro presidente del cop dei gufi qua eravamo in due ottimisti io e Massimiliano e vai e basta tu eri ti eri portato fuori a fumare ormai non so cosa hai fumato non eri molto ottimista io così un po' puntualizzare sulle dichiarazioni fatte dagli amici che sono qua presenti uno il campionato è molto equilibrato non possiamo giocare sempre solo noi giocano anche gli altri due questa squadra questa squadra questa sera aveva assenze pesanti pesanti perché a livello di personalità l'assenza di Vives in trasferta pesa pesa nell'equilibrio del centro campo tre già si parlava di due giocatori non convocati vi consiglio di rileggere bene l'organico della Provercelli due se ne devono andare in tribuna tutte le partite se stanno bene e se stanno bene proprio tutti se ne vanno in tribuna anche quattro quindi non è che Grassadonia ha mostrato di saper gestire la rosa con intelligenza perché qualcuno mi disse se stanno bene questo non giocherà questo gioca quando viene la sua occasione e oggi questa sera da Silva lo ripeto è stato fondamentale nell'acquisizione di questo risultato a volte altre volte sarà fondamentale Altobelli o Germano come è già stato però il fatto di avere un organico in un campionato equilibrato ti consente di fare la cosa che ha fatto la Provercelli questa sera la cosa che non faceva nel girone di andata i pareggi i pareggi i pareggi i cinque pareggi che sono mancati nel girone di andata che sono costati la Paschina Grassadonia e la panchina Dazzori le salvezze si raggiungono con le vittorie con le buone prestazioni ma capitalizzando quando c'è da capitalizzare questa sera c'era da capitalizzare un punto molto pesante lo ripeto io ho parlato senza mezzi termini senza francesismi ma questa fortuna della Provercelli questa sera è stata nel fatto che ha segnato il giocatore che non doveva entrare perché probabilmente se non c'erano problemi per Alcibiade ci sarebbe entrato un attaccante un centrocampista quello che sia ma la Provercelli non ha rubato niente ragazzi non ha rubato niente anzi con un po' più di freddezza ha avuto una palla in contropiede nel finale poteva fare anche il 3 grazie Paolo gli amici dicono ma tu non parli mai e quindi invece loro qua dicono ma no sei sempre tu che hai il microfono in mano saluto ancora nuovamente la mia amica Cecil che mi sta guardando da molto lontano Cecil Cosmi no vabbè Cerse abbraccio forte tutti quanti ciao Cecil ancora ecco perché qui questa questione dei personaggi immaginari la Pro non è un personaggio in cerca di autore la Pro è un personaggio con la sua identità precisa plasmata da Gianluca Grassadonia che ci porterà fuori dalle secche della classifica l'ha detto ci salvia play out beh sì non c'è molta differenza nei play out ci sono Entelle e Novara qualcuno sognava oggi di fare di salvarci a scapito delle Entelle poi fare i play out con il Novara chi sopravvive festeggia poi per dieci anni si diceva con Davide a questi due play out con il Novara no la mia amica dice ma chi è sto bruttone che sta alla tua no allora no adesso non facciamo non facciamo allora eh eh mi chiami appunto per fare bella figura sì esatto eh sì sì avec le lunette gli occhiali cinque minuti ancora di trasmissione allora dobbiamo velocizzare i tempi perché poi andiamo subito in onda con in pista tu che avevi detto scusa non ricordo eh Paolo avete già detto voi continuiamo così Bari un po' più fiduciosi però non regalando un tempo all'avversario e cerchiamo di portare a casa l'ennesimo risultato positivo Massimiliano sei stanco dopo questi 90 minuti ti hanno fiducioso qual è il tuo sentimento attuale qual è il tuo sentimento attuale ma il mio sentimento attuale è vista il risultato positivo che abbiamo raggiunto perché ti ripeto a mio avviso e a mio avviso di tanti altri è un punto guadagnato perché abbiamo tolto due punti al al Cesena e quindi eh le sensazioni sono sono sicuramente sono sicuramente positive vedremo di sicuro bisognerà andare a giocare a Bari con un altro atteggiamento o meglio magari con lo stesso atteggiamento un po' più convinto del secondo tempo ma dimenticando completamente quello del primo tempo che altrimenti sarebbe alquanto deleterio grazie Nicola no adesso ti do subito volevo andare a vedere i commenti dei tifosi però forse non abbiamo tempo andiamo avanti ecco Nicola no 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 adesso vado a leggere i commenti dei tifosi commentavo il nostro amico Pino Ferrazzi che mi dice che cosa ho bevuto per ma uno che mette il terzo attaccante e segna secondo me il terzo difensore e segna è un mago cioè non può che essere un mago no a parte gli scherzi anch'io sono molto fiducioso e devo dire che da ritorno di Grassadonia io entro nel clima partita in modo abbastanza rilassato perché so che effettivamente questa squadra può giocarsela veramente con tutte il primo tempo di oggi mi ha lasciato la mano in bocca perché mi ha aspettato ho detto ragazzi se questa è la Provercelli c'è qualcosa che non funziona quindi ho ritrovato l'entusiasmo con questo secondo tempo dove non abbiamo fatto chissà che abbiamo amministrato con con Gozzi bene le palle in difesa abbiamo tenuto abbastanza bene il centro campo abbiamo provato a costruire ma non è che abbiamo fatto champagne abbiamo trovato due gol per fortuna però possiamo andare a Bari comunque giocando noi ce le giochiamo benissimo con tutte poi chiaramente prima o poi verremo anche sconfitti per la gran carità però secondo me con le squadre aperte e Bari secondo me è una squadra abbastanza aperta possiamo dire la nostra grazie Nicola allora evidentemente Castori aveva preparato la partita molto bene così come Grassadonia dopo 45 minuti di gioco Grassadonia ha riorganizzato la squadra Castori probabilmente come diceva prima l'amico Paolo Gaglione ha tirato un po' giù la squadra abbassato il baricentro e allora noi non ci sentite non ci sentono cioè no 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 dunque e alla fine comunque ha avuto ragione il nostro mago ha avuto il nostro mago andiamo rinfrancato ad una trasferta difficilissima che è quella di Bari e io chiedo ai miei amici ospiti se qui hanno ancora qualcosa da aggiungere rispetto a quanto detto Paolo andiamo Bari contro la tradizione perché un campo dove abbiamo sempre preso degli schiaffoni segnal ex dice lui segnal ex io dico sarebbe ora che segnasse Reginaldo Reginaldo ha bisogno di sbloccarsi ha bisogno di sbloccarsi è il giocatore che ha numeri per andare al tiro fa un grande lavoro di al servizio della squadra ha bisogno di sbloccarsi se segnal ex segnerà Icevic che è bloccato anche lui da parecchio tempo va bene lo stesso va bene che segnino anche perché non credo che a Bari puoi vincere con un gol perché il Bari comunque ha una potenziale offensiva però comunque positiva che oggi ha sfruttato quelle poche occasioni quindi siamo fiduciosi il Bari qualcosa ci concederà e andiamo speranziosi a Bari certo se giochiamo come i primi 25 minuti a Bari prende un'imbarcata esatto 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 dipende molto dall'atteggiamento chiedo in regia abbiamo tempo di prenderci un elettorio dobbiamo andare avanti comunque andiamo avanti benvenuti in pista allora cambiamo trasmissione ah va bene vuoi dire ancora qualcosa su questa pro? non lo devo dichiarare forza pro forza oggi è stato detto tutto mi fa ridere Pino che è convinto che sia stato che io penso che sia una scelta tecnica il cambio di berra lo ripeto onore ai sei tifosi che sono dati per questa trasferta poco ricambiati dai giocatori a fine partita come al solito ma no perché ma no 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 queste polemiche no ma no ma no ma no non voglio assolutamente allora andiamo avanti chiudiamo tra cinque minuti restate con noi in cinque minuti forza pro forza pro forza pro grazie